A 22 anni Pino Giordano può vantare un discreto numero di ammiratori che lo seguono ai concerti nella sua città. Il giovane neomelodico sta scalando tappa dopo tappa la classifica tra i preferiti di Amy Schilla, ma dobbiamo dirlo anche tra i detrattori del web a un certo seguito. Per il ragazzo The Voice è certamente un'occasione importante per acquisire più sicurezza sul palco e per far conoscere il genere musicale a cui si sente di appartenere. Alle Blind Audition aveva portato il brano di Nino D'Angelo via, ottenendo 3 sì. Nelle battle di ieri Amy Schilla lo ha messo in sfida sul ring contro Viviana e Mirko sulle note di El Perdón e di Enrique Iglesias e lo ha scelto per la prossima fase, con buona pace, di quanti in rete si sono affrettati a criticare il giudice. The Voice e Amy Schilla è riuscito a scartare Neja e scegliere due volte Pino Giordano. Complimentoni ha scritto qualcuno su Twitter, mentre qualcun altro ha mostrato assoluta incredulità. Infine c'è anche chi ha errorizzato e ha scritto Emis, quali foto hot tu e a Pino Giordano nell'iPhone per ricattarti e convincerti a portarlo di Nogauta? Grazie a tutti